E salve a tutti ragazzi da PierreDarkNate91, ci ritroviamo su COD Infinite Warfare, oggi andremo a fare un bel ditmatch a squadre nella scorsa puntata, vi ho aperto un sondaggio come faccio sempre per votare la modalità, avete scelto il gioco delle armi che uscirà durante questa settimana. Visto che non ho avuto il tempo materiale per provare la modalità e visto che sono un nabbo, oggi ci facciamo un bel ditmatch. Cosa ho fatto durante questa settimana? Bene, ho fatto alcune sfide, ho fatto un po' di prestigio, dopo che sono arrivato a livello 55 sono ripartito da livello 1 per sbloccare alcuni punti, per migliorare il mio guerriero, il mio personaggio. E quindi mi ritrovo adesso di nuovo con le armi non del tutto potenziate, quindi sono ancora più cesso di prima. E oggi utilizzerò lo Striker come guerriero visto che il mio spettro attualmente è bloccato, come potete vedere. Nel frattempo che cerca la partita noi ci apriamo un bel lancio di rifornimenti, chissà ci esce qualche arma epica. Allora, c'è uscito un accessorio leggendario, il sandwich, un'altra akbar che abbiamo già, quindi molto probabilmente mi darà delle chiavi. No, non l'avevo. Un akbar comune che non avevo e poi un biglietto da visita. Ok, cercherò di tagliare il meno possibile ragazzi, se avrò alcuni momenti di silenzio, sapete il perché, cercherò di fare meno figure di merda. E adesso proviamoci, sperando di trovare una squadra leggermente decente. Ok, il primo lo abbiamo fatto, andiamo avanti così, vediamo se ne troviamo altri da queste parti. Ce n'è uno da quella parte, vediamo se il mio amico viene ammazzato malamente. E siamo a due uccisioni, ce n'è uno da qui che adesso ci ammazza. Abbiamo due uccisioni, una morte, cinque, sei contro cinque, sei a cinque. Vediamo, ok, tre uccisioni, una morte. No, questo è il mio amico, non facciamo cavolate. Vediamo se qui riesco a ammazzare qualcuno. Ok, un'altra uccisione. Andiamo da questa parte, dobbiamo muoverci il più possibile. Vediamo se lo riesco a ammazzare, quel maledetto incredibile, con il suo cecchino, cerca di farci il culetto. Eccolo lì. E niente, ci hanno fatto quattro uccisioni, due morti. Stiamo perdendo, non è una novità ovviamente, ogni volta che gioco perdo. Ok, un'altra uccisione. Vediamo se il mio fantastico, niente, non funziona quella cosa di merda. E adesso ci ammazza. Cinque uccisioni, tre morti, forza. Devo fare meglio, devo parlare di meno ragazzi. Devo parlare di meno, assolutamente. Ce n'è uno da qui, vediamo se riesco a far qualcosa e ce n'è uno da questa parte. Ok, fatto fuori. Vediamo se ne riesco a fare fuori un altro. Letale non pronta. Mannaggia a me, sbaglio sempre. Andiamo da qui. Ok, un'altra uccisione. Vediamo, ci sparano dietro. Io cambio, io cambio. Bisogna sempre tenersi in diverse zone. Uno è stato ucciso da qui, quindi di sicuro è da questa parte. Eccolo lì. Mannaggia. Sette uccisioni. Quattro morti. Stiamo perdendo, come sempre. Non avevo davvero dubbi. Maledetto. Sanno fare solo i cecchini e i camperoni. Sanno fare solo quello. Guarda, guarda quando sono bene. Mamma mia, che schifo. Quando giocano così ste persone, rovinano il gioco. I camperoni del cacchio. Mamma mia, ma che gusto c'è giocare così. Ma che gusto c'è. Ma che gusto c'è. Pezzo di merda. Dove sei? Crepa, crepa. Mannaggia, oh. Ma sono dei camperoni di merda, oh. Camperoni bastardi. Scusate il termine, ragazzi. Ma rovinano proprio il gioco. Questo è un gioco frenetico. Non bisogna stare lì fermi. Per pochissimo l'avevo quasi ucciso. Sono l'unico che ammazza. Sono l'unico in positivo. Quindi qualcosa, qualcosa la dice davvero lunga. Incredibile. Sono l'unico che sta giocando. Eh, ce n'è uno qui. Ce n'è uno qui. Ce n'è uno col cecco. Maledetto, maledetto. Cambiamo zona. Dove sei? Pezzo di merda, crepa. Ok, un altro fuori. Andiamo così. Avete visto, ragazzi, come sono migliorato? Ho giocato molto. Ho giocato davvero molto. Vediamo se da questa parte riesco a fare sfracelli. No, 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 no. Non c'è nessuno da qui. Di sicuro escono da qui. Vai, esci. Esci. Eccolo qui, è andato. Vortice. Vai con il vortice. Vai con il vortice. Di sicuro ce n'è uno lì. Vediamo un po'. Ok, buttiamone un altro per sicurezza. Ok, fatto. Con il cecchino, come sempre. Sapete giocare solo con i cecchini. A distanza, a distanza. Incredibile. Vedi dove mi ha fatto spawnare. Vedi dove mi ha fatto spawnare. Mannaggia, oh. Ne ha fatto spawnare. Dove c'era davvero già 3-4 avversari. 32 a 65. Le uccisioni le ho fatte solo io. Non ci credo. Le ho fatte solo io. 13-8. E cosa posso fare? Non c'è supporto della guava. Cosa fate? Dovete essere mobili. Non fermi così. Ma che cacchio. Ma che cacchio. Mamma mia. Eh. Ah, salvati, salvati, salvati. Salvati. Ok. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eh, lo so. Eh, il cecchino non funziona contro di me. Sapete giocare solo così. Ragazzi, ma che sfortuna. Ogni volta che porto un gameplay su YouTube, trovo una squadra davvero inguardabile che mi fa perdere le partite. Ma comunque, io sono in positivo. Non ho giocato male. Guarda là, qua. Sta là, sta là il pezzo di merda. Sta là. Qua, qua. I cecchini di merda. I cecchini di merda. Guarda qua, qua. Guarda qua. Guarda, madonna mia. I cecchini di merda. Come li odio. Rovinate proprio il gioco. Rovinate. Sfascia quella torretta. Sfascia quella torretta. Ok. Sì, sì. Certo. Guarda qua. Guarda che adesso mi devo rovinare la mia media uccisioni. Guarda, pezzo di me. Ma se ho pure quelle cose che lanciano. No, vabbè ragazzi. Sono sfortunato proprio. Proprio a essenza. Guarda quando ce ne sono. Ce sono stato il primo. Ho finito. 43 a 100. Trovatemi uno in positivo. Solo io. Solo io. Incredibile. Solo io. 15 uccisioni. 13 morti. Con una squadra di pipponi assurdi. Mamma mia. Ma questi chi cacchio? Madonna. Senza parole. Ragazzi, ogni volta che gioco in privato, gioco benissimo. E vinco. Comunque, mi trovo sempre con una media uccisioni. Adesso superiore alle morti. Ovviamente, se non hai supporto dagli amici, dai compagni di squadra, non puoi far nulla. Sperando che non votano questa seconda mappa, che non la posso vedere. E adesso speriamo di vincerla. Adesso cambiamo squadra. E non rimettete i forti contro i cessi. Comunque, grazie per il supporto. Cercate di lasciare sempre tanti bei pollicioni in su. Finalmente, è stata scelta la mappa. Ci troveremo nella mappa SkyDoc. Sta per iniziare. Siamo pronti. Ok, allora. Qui me la campero un po' di più. Ma visto che tutti sono così. Tutti si mettono lì con il cecchino. E fanno i grandi maestri. Adesso io faccio il pezzo di merda. Scusate. Ma ci vuole. Scusate. Ma ci vuole. Cambiamo un po' zona. Eccolo lì. Eccolo lì. E siamo a due. Siamo a due uccisioni. Eccolo lì un altro. Vediamo se lo riesco a buttare a terra. Niente. Si è buttato a terra? Ah! Mannaggia. Mannaggia. Bella strategia del nostro avversario. Eccolo. Eccolo. Ci buttiamo questa bombicella. Niente da fare. Niente. Niente. Corpo a corpo è meglio non farle queste cose. Perché se no... Le prendiamo di santa ragione. Ecco qui. Di nuovo con la squadra di pipponi. No. Stiamo vincendo. Adesso che vinciamo sono io che sono cesso. Vabbè. 12-10. Si avvicina la squadra avversaria. Devo camperare di meno. Devo camperare di meno. Perché se no... Subisco pallottate nei denti. Vediamo se qui trovo qualcuno. Qui non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno. Qua ci butto una bella bomba. Ok. Vediamo se arriva. Sempre qua vado a ritrovarmi. Alla fine sempre qui sto. Sempre qui. Eccoli là. Uuuuh. Mamma mia. Eccolo. 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 Ti ho visto. Ma a cacare. Ce l'avevo pure dietro ragazzi. Non potevo far nulla. Non ho supporto. Ecco. Adesso perdiamo. Non avevo davvero dubbi. Non avevo davvero dubbi. E' una cosa assurda. Ogni volta che registro mi trovo con una squadra di... Mamma mia. Meglio che non parlo. Guarda, guarda, guarda. Avete visto come camperano? Io non ci posso credere. Mamma mia. Ma questo gioco non è da camperare. Ma porco Giuda. E di così. E che cacchio crepa. E madonna. Vai là, vai. Vai che mi salvi. Mostra un'altra volta là quel pezzo di merda. Uuuuh. Dai. Cioè io sono caduto. Come sono caduto. Io non l'ho capito ancora. Come sono caduto non l'ho capito ancora. Da dove? Da lì. L'unico spazio. Vabbè. Spostiamoci. Spostiamoci. Ok. Andiamo qui. Non c'è nessuno. Niente. Bruttissima partita. Vediamo qui se c'è qualcuno. Non c'è nessuno. Sparano da lì. E dai. Crepa. E che cacchio. Non muore. Non crepa. Non crepa. L'hanno fatto? No. Sono stati uccisi. E che cacchio. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Mi sa. Ok. Adesso faranno il giro da qui. E quindi. Stiamo perdendo. Non ci credo. Dov'è? 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 Ma vedi un po'. Ma vedi un po'. Alziamo un po' il volume. Non esce. Non esce con la capuzzella. Quindi. Ci rifacciamo un altro giro da qui. E dobbiamo davvero muoverci. In fretta. Beh. Sempre l'asta quel coso. Sempre l'asta. Sì. Lo so. Sto camperando pure io. Ma. Per affrontare un camperone. Bisogna camperare. Se no. Non vai da nessuna parte. Adesso. Adesso. Escono tutti da qua. Allora. Vai il vortice. Vai con il vortice. Uno qui. Ok. Fatto. Uno qui. Ok. Fatto. Eh. Eh. Pezzi di merda. Vedi come. Madonna mia. Ma come cacchio faremo ragazzi. Come faremo. Come facciamo. No. Come faremo. No ragazzi. Se la camperano troppo. Per i gusti miei. E bisogna stare così. Eh no. Ma poi. Vedi sempre nelle squadre di pipponi. Guarda. Guarda come si fa ammazzare. Guarda come si fa ammazzare. Che crepa. Oddio. Vai così. Eh beh. Eh beh. Eh beh. Mi dispiace. Ma vedi. Tre. 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 Dove sono i miei compagni? Non riusciamo a vincerne una. Non riusciamo a vincerne una. Stanno tutti là a camperare. Guarda. Pezzo di merda. Guarda. Ah. Ah cacare. Vai. Vai. Crepa. Ok. Assist. Eh beh. Eh beh. Basta camperare. Pezzo di merda. Basta. Basta pure a te. Ok. Adesso fanno il giro. Eccolo lì. Ah. C'aveva l'arma quella speciale. Undici otto. Sessantacinque. Ottantuno. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Ma proprio per niente. Non ce la facciamo. Eh beh. Eh beh. Ancora un'uccisione. Come sempre sono in positivo. Ma il problema è la squadra. Il problema è la squadra. Ma davvero tanto. Ce ne sono altri da qui eh. Dov'è? 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 Esci? Esci stronzo. Eh beh. Sei rimorto. Con me muori. Con me muori. Esci. Dai 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 dai. Niente. Niente. Vediamo se riesco a far qualcosa. Ok. Un altro fatto. Adesso fanno il giro da qui. E oramai è finita. Eh. Non posso far più niente. Posso fare più niente. Mi dispiace. Qui ci sono gli scorce. Devo stare per forza qui. Mamma mia. Io penso di aver fatto un'ottima battaglia. Infatti sono in positivo. Come potete vedere. Sono l'unico ad avere uno score positivo. Uccisioni. Un rapporto. Come potete vedere. 14.8 per me. Anche il primo ha fatto 17.21. Questa cosa non mi piace ragazzi. Perché se io sono in positivo. Se io sono un militare. Io ho perso meno uomini del primo. Quindi meriterei io la prima posizione. Non quello che è morto 21 volte. Va bene ragazzi. Io penso di chiudere qui. Questa puntata di Call of Duty Infinite Warfare. Se vi è piaciuta lasciate tanti bei pollicioni in su. Solo io in due battaglie ho avuto un rapporto uccisioni morti positivo. Vabbè. Speriamo che nella prossima abbiamo più fortuna. E troviamo una squadra decente. Un bacione a tutti. Da Pierre Dark Knight 91. Spezia e Torino. Le nostre prossime avversari in campionato. Una Juventus che dopo la cessione di Dybala non vola più. Una Juventus impegnata in Champions League in un girone di ferro. Real Madrid, Borussia Dortmund e Basilea.